E' bella a tutti ragazzi, sono Dino e oggi sono qui sul canale del clan per commentare le top 5 del clan episodio 24 perché Redentive non sta molto bene e quindi mi ha chiesto se potevo commentarla io Bene, cominciamo subito in quinta posizione, troviamo Dax che sta giocando con lo sniper su tutti contro tutti, gli mancano 3 kill ne prende una, prende la seconda, prende l'arma a caso, spara e boom, non si sa come, completamente a cazzo, prende un nemico attraverso il muro quindi ottima clip, molto molto sculata, però ci sta come quinta posizione Passando in quarta posizione troviamo il nostro magico, il nostro prof, il nostro maestro che qui con un'azione molto furtiva diciamo, si teletrasporta dietro 3 nemici, fa una bella tripla, conclude una quota e poi prende anche un'altra kill ottima clip In terza posizione troviamo Milan che sta giocando su Nuketown Uplink con un kuda si sporge qui, trova 4 nemici, li prende tutti e 4, carica, si sporge nella casetta e ne prende altri 2 per una six man con tipo 5 on credo, sì, mi parli sì Seconda posizione troviamo il nostro magico GTF Gennaro, Akagenna che su Ghost, il suo magico gioco, sta giocando su Strikedon come sempre, on a budget, classica arma devastante e si fa una bella six, six man, poi continua nella stessa partita, esce di nuovo nello stesso spot 4, 5, multi da 5, minchia, bella clip e attenzione perché in prima posizione troviamo il nostro nuovo membro, JTF All Star che sta giocando con uno Sheiva su Aquarium, una mappa del cazzo e già fa tripla headshot, quindi la split hanno quote headshot e 5 headshot mamma mia che cosa poteva uscire se non ci fosse stato quello split comunque veramente un'ottima clip da parte di All Star e ragazzi, per oggi le top sono finite, spero che le clip vi siano piaciute se è così vi esorto a lasciare un mi piace, un commento fateci sapere cosa ne pensate, insomma se volete dirci qualcosa ovviamente scrivetelo nei commenti da Dino è tutto, ci si vede anche nel prossimo video, bella! la zucca della zucca della zucca minchia, booo non ti piacciono i JTF figa minchia, ammazzati figa, sparati no